ciao a tutti oggi prepareremo il pesto di fiori di zucca e mandorle il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa ingredienti sono fiori di zucca parmigiano mandorle basilico fresco a spicchio d'aglio senza anima sale pepe nero e olio evo diamo il via alla ricetta abbiamo pulito i fiori di zucca eliminato i pistilli e lavati sotto l'acqua fredda mettere nel boccale il parmigiano e tritare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le mandorle l'aglio e il basilico ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 8 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere i fiori di zucca l'olio il sale e il pepe ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 trasferire in vasetti di vetro con chiusura ermetica pesto di fiori di zucca e mandorle grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti Grazie a tutti.